Ho l'occasione per iniziare questa conferenza stampa dedicando questa vittoria naturalmente a Stefania. Come vi ho detto in questi giorni non ho avuto la fortuna di conoscere questa persona, me ne hanno parlato tutti benissimo e il dispiacere non averla conosciuta. Siamo, sono, siamo vicini alla famiglia e quindi questa vittoria la dedichiamo a Stefania. Mister, per il Catania la seconda vittoria consecutiva ed è chiaramente un momento in cui la squadra è in fiducia. Sì, il primo tempo un po' più timorosi ma venire a giocare qua non era semplice, avevo timore di questa partita nonostante la classifica della Cavese. Il secondo tempo siamo venuti fuori bene, la squadra mi è piaciuta. Abbiamo fatto tanti errori e dobbiamo lavorare su tanti passaggi sbagliati, quindi sotto quel punto di vista dobbiamo lavorare. Non voglio assolutamente che la squadra sia contenti di vincere, voglio che la squadra migliori. Come ho detto abbiamo ancora cinque partite per preparare poi lo sprint finale e quindi voglio che si continui a migliorare. Con questa risposta ha soddisfatto la curiosità di chi chiedeva se ci fossero degli aspetti da migliorare segnatamente dopo la partita di oggi. Siamo ad altre osservazioni. Giovanni Finocchiaro chiede un passo in più verso il possibile quarto posto. Non guardo la classifica, ho vietato ai ragazzi di parlare della classifica, non mi interessa. Mi interessa arrivare meglio possibile a giocarci playoff. Per mille motivi, compreso il Covid, quest'anno è un anno particolarissimo e nei playoff può succedere qualsiasi cosa. Quindi voglio che ci prepariamo queste altre cinque partite che ci rimangono per stare al meglio durante la fase finale. Assegno un difensore per effetto di uno schema e un centrocampista, vuol dire che avanti c'è spazio per tutti? Assegno un difensore per bravura sua, assegno un centrocampista perché abbiamo rubato palla e questa cosa mi piace molto. È una delle poche cose su cui abbiamo lavorato, è uno dei pochi input che ho dato alla squadra. Il secondo gol mi soddisfa tanto. Giosa è stato bravissimo, è stata una giocata singola. Claudio Lonero chiede cosa le è piaciuto di più in generale della prestazione del Catania? Mi è piaciuto come abbiamo gestito la partita da squadra. È vero che questa è una squadra grande di età, una squadra che ha giocatori con tanta esperienza, con tanta esperienza alle spalle. Non era facile perdere la testa, si rischiava di perdere la testa al primo tempo, il secondo tempo invece abbiamo gestito la partita veramente molto, molto bene. E' d'accordo nel dire che è piccolo e lontano dalla forma migliore, chiede Massimiliano Giriberto? Se è lontano dalla forma migliore sono veramente contento perché allora vuol dire che quando è in forma ce la giudiamo veramente con tutti. Sono contento del lavoro che ha fatto Piccolo. A parte gli scherzi, lo vedo anch'io, che ha bisogno di mettere in campo minutaggio, ma minutaggio si mette sulle gambe solamente giocando. Mi auguro di averlo al 100% della condizione perché lo conosco come giocatore e mi è sempre piaciuto. Se questo è il 50% di Piccolo allora sono veramente molto seri. Alessandro Cocco chiede cosa ha chiesto nell'intervallo dato che la squadra ha iniziato la ripresa con un altro video? L'abbiamo semplicemente sbloccata, l'abbiamo semplicemente sbloccata su una palla inattiva e dopo è stato un po' più facile gestire la palla. Però l'abbiamo fatto da squadra matura. Martino Schillaci vede una corsa al podio ancora aperta. In cosa la squadra ha dimostrato maggiore carattere? Come ho già detto il carattere l'ha dimostrato gestendo la partita nel migliore dei modi. Ripeto, il primo tempo non è stato un primo tempo semplice. Ho bisogno ancora di più che si allarghi il campo quando siamo in corsa a sua palla e su questo possiamo lavorarci, per esempio, una cosa che secondo me nel primo tempo dobbiamo migliorare. Vittorio Sangiorgio osserva raramente nel primo tempo si è trovato lo spunto sulla destra e mi peso anche dall'avversario. Era più facile trovare spunto sulla sinistra? Secondo me sì, ma per caratteristiche dei giocatori. Aveva sottolineato la vigilia degli insidi di questa gara dal punto di vista della crescita mentale. Quanto conta questo successo? Tanto, tanto perché era importante che questi ragazzi prendessero consapevolezza dei loro mezzi. Ho sempre detto fin dal primo giorno che sono arrivato qui, che la reputo, compresi quelli che sono fuori, la reputo una rosa importante, quindi sono contento. Cosa vi siete detti nello spogliatorio? Ci siamo detti che abbiamo voglia di continuare a fare bene, ma ne hanno voglia i ragazzi, non è a merito mio. Si vede che sono ragazzi che hanno voglia di mettersi a completa disposizione e hanno voglia di fare un certo tipo di calcio. Federico Rosa, le ragioni tattiche per la scelta della coppia difensiva a Gio San Greco? È semplice, avevamo un difensore in panchina, gli altri sono infortunati, però quello che mi stanno dando è importante. Io sono uno che poi guarda il campo e non ha i nomi, insomma, quindi finché faranno prestazioni del genere è difficile che un allenatore cambi una coppia di centrali. Chi rientra da un fortunio si dovrà allineare e guadagnarsi il posto, ma com'è giusto che sia in tutte le squadre? Infine Claudio Gruduli chiede di soffermarsi sui motivi dell'interma di Isco, anziché l'inserimento di Welbeck. Perché Mariano è un giocatore che mi piace molto, perché Mariano è un giocatore che la gente non vede lavorare durante l'allenamento, ma come tutti gli altri, dà sempre il massimo, anzi lo tengo in campo perché ho bisogno che continui a aumentare il minutaggio nelle gambe. È un giocatore che mi piace molto, ma come mi piace Welbeck. Ho detto ieri, a proposito di queste domande, che un allenatore se contasse solamente gli 11 con il calcio moderno di ora con 5 sostituzioni sarebbe uno stupido. Lo deve capire un allenatore, lo devono capire i giocatori. Non capisco, ripeto, l'ho detto ieri, che differenza ci sia tra chi gioca a 55 minuti e chi ne gioca i restanti. Conta quello che mi danno. Welbeck mi sta dando tantissimo, ma come Mariano, che ho bisogno di metterlo in condizioni al 100%, ma come Giacomo, ho un centrocampo forte. Grazie.